L'ex tronista Lorenzo Riccardi e la sua compagna hanno deciso di sposarsi dopo la nascita della loro bambina. Il dolce annuncio sui loro account social. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno deciso di sposarsi. I due, dopo essersi conosciuti molti anni fa nel famoso programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, in cui si sono trovati e sono riusciti a durare nel tempo, hanno annunciato solo pochi giorni fa di essere diventati genitori della piccola Maria Vittoria. Inoltre, oggi hanno deciso di fare un annuncio pubblico nelle storie Instagram dei loro profili per aggiornare i loro tanti fan di questo periodo molto felice. E il modo in cui Lorenzo ha fatto la proposta alla sua compagna è apparso molto originale. Lorenzo Riccardi e la proposta a Claudia Dionigi. Fan sorpresi e contenti per l'originalità del gesto. Ormai si sa che il programma di Canale 5 Uomini e Donne dà vita a molte coppie che nascono nel programma e finiscono all'interno dello stesso. Oppure durano mesi, anni o fanno nascere una famiglia. E quest'ultimo è il caso di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I quali dopo la loro esperienza in televisione si sono consolidati al di fuori e nell'ultima settimana sono prima diventati genitori e poi hanno annunciato di volersi sposare. Questa mattina Claudia Dionigi ha pubblicato una storia su Instagram in cui la loro bambina Maria Vittoria aveva addosso un bavaglino con la scritta «Mamma vuoi sposare il mio papà?» Ciò ha commosso la donna in primis ma anche i tanti fan che li seguono dai tempi del programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne. La risposta di Claudia Dionigi alla proposta. Siete tutta la mia vita. Claudia Dionigi è rimasta profondamente sorpresa e commossa dalla proposta del suo compagno Lorenzo Riccardi e, sul proprio profilo social, ha risposto pubblicamente all'uomo con una bella frase. «Come faccio a dirti di no? Siete tutta la mia vita. Vi amo». Inoltre, la donna sempre tramite una sua storia su Instagram ha promesso ai suoi follower che nei prossimi giorni racconterà loro per bene ciò che sta vivendo e il momento del parto e della proposta. Dunque, i due ragazzi sono la prova che l'amore può nascere anche in programmi televisivi e che ci sono ancora sentimenti autentici e puri nei reality e in tv. E ora i fan non vedono l'ora di leggere il racconto di Claudia e di sapere nei minimi dettagli ciò che sta vivendo e come ha preso le bellissime notizie degli ultimi giorni.